Buongiorno. Sono Primo Guendalini, ebanista e scultore. Ah, io sono Michele Cammagnulo. L'avevo riconosciuto subito. Il lino bianco, la cravatta blu, la camicia righe. Lei conosce la Marisa, vero? Marisa Stangona, certo che la conosco. Lei è cliente? Diciamo che qualche volta mi servo da lei. E fa benissimo. È un gotino eccezionale. Come si gode della Marisa, da nessuno si gode brisa. Ma prego. E la Marisa le ha detto di che si tratta? Certo che me l'ha detto. Del Marcantonio. Senta, la Marisa gliel'ha detto che a me serviva una cosa un po' particolare. Guardi, modestia parte, da quel punto di vista lì qua nella zona non mi frega nessuno. Per trovare qualcuno che faccia concorrenza al Guendalini, le tocca andare almeno a Piacenza. Ah, sì? Ebbene, allora io posso stare tranquillo. Lei vada pure tranquillo. No, quello che mi preoccupava era la misura. Diciotto centimetri. Le basta? Sì, certo. Sennò posso dargli una slungatina? No, che slungatina? Diciotto centimetri va bellissimo, è più che sufficiente. C'è una cosa che non mi ha detto la Marisa. Non so che cosa. E a lei che interessa l'oggetto? A me no. Mi interessa nel senso che io lo devo cercare per due signore. Ecco, lo devo procurare, anzi due signorine. Mi dispiace un tantino. Perché? Perché a lei l'avrei dato volentieri. A me? Lei è di Napoli. Beh? Avete una gran bella tradizione dietro, da quelle parti. Ma che... Io son sicuro che lei l'avrebbe messo al posto giusto. Io? Perché vede, è un peccato. Se le sue signorine non sono esperte, che la cosa va di mano della gente che non ci sa fare. Ha capito? No, no, no. Stia tranquillo, caro signore, perché l'oggetto, come dice lei, è in buone mani. Allora io vado tranquillo. Vada tranquillo. Per il prezzo io farei in questo modo. Un momento. Eh? Io ho una mia dignità. Non pensere a me che io faccia un lavoro così per una cosa materiale. No, eh. Io sono un artista. Ah, artista del... Certo. Qui non si parla di prezzo finché non glielo ho fatto vedere. Cosa? Anzi. Glielo faccio vedere subito. Ma cosa fa vedere? Ma stia tranquillo, non c'è bisogno, io mi fido. Ma, signor Guendalini, che vogliamo fare? Qui c'è della gente. Andiamo, per favore. Cosa me ne frega me della gente? No. Ma a me sì. Comunque se lei preferisce possiamo andare di là. Ma zia Buono, dove vuole andare? Chi sta pazza? Ma chi mi è capitato a me? Glielo faccio vedere. Ma cosa fa vedere? La prego. Ma stia Buono. Ma cos'è? Ma... Eccolo. Questo cos'è? Il Marcantonio. Quello è il Marcantonio. Tutto squattito in legno. Pezzo raro. Primo Guendalini quando ci si mette fa le cose alla grande. A cosa le serve? Non mi serve a un cacchio. Eh?